Allora, adesso il nostro scopo è quello di definire le funzioni integranti però prima dobbiamo definire le funzioni misuranti Allora noi abbiamo il nostro spazio di misura x sigma mu e supponiamo di avere una funzione f da x a valori in R Nel contesto per esempio del linguaggio che voi avete studiato in probabilità x chi è? Sono gli outcomes, spazio di amico, variamenti elementari sigma sono gli eventi misurabili e f chi è? No Ecco una variabile La variabile datoria, lì c'hai omega sigma p e hai x grande da omega parere Quindi questa è una variabile datoria Nel linguaggio della parola di Di una variabile aleatoria tu fai il valore atteso Che è il valore atteso? L'integrale di E per il dm Voi siete forviati dal fatto che dm mu, la probabilità mu che avete in genere voi Quindi c'ha una densità che è normalizzata per dx Quindi state in una dimensione e ha una densità rispetto a dx Questo poi lo vedremo In generale la nostra configurazione è molto generale x sigma mu f va da x in R Quando è che si dice misurabile? F si dice misurabile Se solo se per definizione F a meno 1 di A appartiene a sigma per ogni A aperto di R Io uso questa definizione qua Ce ne sono di altre che sono equivalenti ma io voglio usare questa Cioè noi vogliamo che almeno in verità esercizio esercizio F è misurabile Se solo se F a meno 1 dell'insieme cioè se l'insieme degli x tali che f di x è maggiore di alfa appartiene a sigma per ogni alfa appartenente a F cioè se solo se F a meno 1 della semiretta aperta alfa più infinito appartiene a sigma per ogni alfa Cioè noi vogliamo quindi in realtà potrei dare questa come definizione se era una cosa che lo rende a questa forse era pure me anche perché questo esercizio lo faremo però diciamo ci saranno dei dettagli dell'esercizio che non lo so se riuscite a comprendere al 100% Allora l'importante ragioniamo un attimo su questa definizione che come al solito le definizioni non è che si devono dare così è così questa cosa si devono dare in maniera ragionata cioè poi le cose devono funzionare gli enunciati devono eliminer bene i teoremi devono eliminer bene cosa pretendiamo affinché una funzione sia misurata pretendiamo che la controimmagine insomma questi qui si chiamano insieme di livelli pretendiamo che almeno gli insiemi di livelli della funzione siano misurati ok che cos'è se io prendo una funzione qua prendiamo una funzione per esempio da r in r cos'è l'insieme di livello alfa in questo caso è l'unione di due semiretti cioè dove questo è il valore alfa io prendo il valore alfa devo prendere la zona dove la funzione è più grande però attenzione l'insieme di arrivo a r con la topologia equilidea quindi aperto stiamo parlando di aperto rispetto alla topologia equilidea r ci sta la distanza equilidea la solita distanza quindi sono gli aperti quelli classici quelli normali quelli che già conosciamo infatti questi qui cos'è una semiretta aperta noi pretendiamo che almeno questi insiemi siano misurati perché se no c'è veramente difficoltà a fare diciamo l'integrale una funzione se qui allora per esempio prendete una funzione che vale 0 su un insieme e 1 su un altro insieme ok cioè vale 1 su un insieme e 0 fu cioè la funzione caratteristica di E io prendo la funzione caratteristica di E questa funzione caratteristica vale 1 se X appartiene a E e 0 se X non appartiene a E secondo voi se io voglio integrare questa funzione in D mu quindi stiamo a parlare di una misura generica mu sullo spazio X qual è la definizione da dare coerentemente con quello che abbiamo fatto fino a mu chi deve essere questo cioè non è che arrivati a questo punto non è che ci possiamo inventare le cose una funzione che vale 1 su E quindi mi sta dicendo che io devo contare l'insieme E una volta rispetto alla misura mu che deve venire secondo voi chi deve essere questo mu di E cioè è che possiamo inventarci le cose cioè l'unica definizione coerente allora se questo deve essere mu di E l'insieme allora se io prendo l'insieme delle X tali che T E di X è maggiore di un mezzo chi viene? viene E quindi cioè gli insiemi derivati di questa funzione sono due se alfa sta sotto 0 l'insieme di livello è tutto X che è misurabile lo esattiamo anzi sono tre se alfa sta sopra 1 l'insieme di livello è il vuoto se alfa è compreso tra 0 e 1 l'insieme di livello è il se tu hai una funzione funzione caratteristica di questo quindi qua sotto c'è fare l'insieme di livello a questo livello qua diviene tutto X fare l'insieme di livello qua diviene solo questo insieme qua fare l'insieme di livello qua diviene vuoto cioè tre possibilità c'hai non è che puoi invertarti allora se noi vogliamo integrare questa funzione che è la funzione più semplice possibile la funzione caratteristica di un insieme cosa ci vuole che l'insieme debba essere misurabile ma questo insieme è proprio l'unico insieme di livello non banale allora vedete che il discorso di richiedere che gli insieme di livello siano insieme della sigma algebra se siano misurabili è naturale non è una cosa che uno si è inventato chiaro? ok poi questo esercizio vedremo si complicherà quindi questo esercizio lo rimandiamo per adesso voglio rimanere dare la definizione di integra e poi andiamo a vedere di ragionare sull'esercizio allora ripeto se abbiamo la funzione caratteristica di un insieme e questa si dice integrabile secondo le bag rispetto alla misura mu sullo spazio x se solo se diciamo è misurabile ma quando è che è misurabile quando è un insieme misurabile ok quindi chi sono quali sono le funzioni caratteristiche integrabili? solo le funzioni caratteristiche degli insiemi misurabili e l'integrale per definizione è questa ok quindi definizione integrale della funzione caratteristica di un insieme misurabile ok adesso andiamo questo è uguale a Riemann sembra uguale a Riemann non è uguale noi cosa facevamo con Riemann già c'è una profonda differenza in una dimensione cosa facevamo? integrali delle funzioni caratteristiche all'inizio di che? gli intervalli se mi ha aperti a testa ricordate questo? qua l'insieme misurabile come vedremo c'è una differenza abissaria l'insieme misurabile può essere anche un insieme molto complicato ok però a lui che ce ne frega tutta la difficoltà dell'integrazione è scaricata sul fatto di calcolare la misura di E noi sappiamo che in misurabile ci sta la misura mu di E fa l'integrale nel caso dell'intervallo si sapeva quanto era l'integrale se l'intervallo era B la lunghezza stavamo in una dimensione e la lunghezza era B-A invece qua stiamo in uno spazio di misura qualunque con una misura qualunque però sappiamo che quello insieme di misurabile deve stare la misura mu di E ci stiamo fino a qui adesso andiamo a dare questa altra definizione prendiamo F da X in R che è X è il solito spazio di misura si dice semplice se solo se per definizione F si può scrivere come somma per J che va da 1 a tappa di lambda J per la funzione caratteristica di E con J vabbè X non ce la mettiamo visto noi l'abbiamo messa qua non mettiamo neanche qui dove E con J appartiene a sigma per ogni J compreso tra 1 quindi che cos'è una funzione semplice è una combinazione lineare finita di funzioni caratteristiche di insieme misurabile cos'è una funzione semplice o meglio a scalino vi ricordate che noi chiamavamo a scalino proprio perché così tenete ben presente la differenza quelle di Riem sono a scalino perché sono veri i propri scalini queste sono funzioni semplici cos'è una funzione a scalino è una combinazione lineare finita di funzioni caratteristiche di intervalli semi aperte a destra ok definizione l'integrale esteso a X di E in D mu per definizione è uguale a somma cioè J che va da 1 a K di lambda J per la misura di questa definizione è altresì obbligata per quale motivo? l'integrale dovrà risultare lineare ma se deve essere lineare l'integrale della somma deve essere uguale alla combinazione lineare deve essere la combinazione lineare degli integrali se l'integrale di una funzione caratteristica è la mu di e con J l'integrale della combinazione lineare deve fare il sommatore per J che va da 1 a K lambda J di e con J quindi l'integrale della funzione semplice deve venire così basta ok a questo punto prima c'è una proposizione per adesso rimandiamo alla dimostrazione dipende la facciamo quando andiamo a fare con l'esercizio l'altro supponiamo di avere una successione F con N un'esercizio e un'esercizio prendiamo una successione di funzioni semplici e positive ok noi questa cosa la vediamo più in generale questo qua sarà un caso particolare l'esterno superiore è una successione di funzioni misurabili sia il lim sup che il lim in su sono misurabili ma comunque diciamo non generalizziamo dove non è opportuno quindi prendiamo una successione di funzioni semplici ok queste sono l'analogo delle funzioni semplici meno inoltre delle funzioni a scalino inoltre allora le ho dette la resina queste sono le ipotesi allora f di x definito come l'estremo superiore su n di f con n di x per ogni x appartenente a x è una funzione misturata questa questa proposizione è vitale perché se vi ricordate Riemann io prendo la funzione la prossima dal basso e dall'alto con le funzioni a scalino se l'integrale della differenza è piccolo posso renderlo piccolo quanto mi pare dico che la funzione in mezzo è integrata secondo me ok qua invece prendo le funzioni da sotto prendo la stima superiore intanto questa funzione viene misurabile questo mi permette di definire sia f da x a valori in R misurabile f di x maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente a x per adesso non parliamo di quasi ovunque ne parleremo la prossima volta allora prendiamo una funzione misurabile positiva allora io posso dire che l'integrale di f in dm su x per definizione è uguale all'estremo superiore dell'integrale su x di phi in dm tale che phi è una funzione semplice maggiore o uguale di 0 minore o uguale di etto cioè io cosa faccio non faccio altro che restiamo superiore dell'integrale il fatto che però la funzione sia integrabile è dovuto al fatto che sia misurabile quindi diciamo le funzioni non tutte le funzioni sono integrabili ci mettiamo a priori sulla classe le funzioni misurabili quelle sono integrabili sostanzialmente nel senso che se sono positive sono integrabili se sono disegno variabile deve essere integrabili la parte positiva la parte negativa l'unica cosa che non va bene è quando entrambi gli integrali fanno infinito perché in quel caso l'integrale dovrebbe fare infinito meno infinito non si può fare se uno solo dei due integrali farà più infinito diremo che la frazione è semi-integrabile se tutti i due gli integrali sono finiti diremo che la funzione è l1 suona qualcosa avete sentito questa parola l1 magari no ma l2 sì avete segnato sì funzioni a quadrato sommabili quali sono le funzioni sommabili? esattamente quelle che hanno quadrato sommabili vuol dire che l'integrale di f4 è finito f4 è misurabile e l'integrale di f4 è finito che vuol dire? basta non è che vuol dire altro chiaro? ora però qua ci può essere un fraintendimento forte uno può pensare che la differenza tra Riemann e LeBag sia nel fatto il problema di segno è un problema marginale pensiamo alla funzione soltanto positiva positiva misurabile integrabile integrave questo allora uno può pensare che l'integrale sia definito come l'estremo superiore di integrare solo da sotto e male cioè la differenza sia del fatto che prima dovevo fare l'estremo inferiore di integrare da sotto e l'estremo superiore di integrare da sotto e qua devo fare invece solo uno no la differenza non è questa questa definizione è fatta per comodità ma per esempio se una funzione misurabile è limitata l'estremo superiore degli integrali da sotto e l'estremo inferiore degli integrali da sopra coincidono ok e sostanzialmente coincidono praticamente sempre quindi non è un problema quello da sopra non ce lo mettiamo perché coincide è inutile mettercelo perché coincide perché la funzione è misurabile attenzione però e quindi qual è la differenza la differenza è che in Riemann tu approssimavi da sotto e da sopra con le funzioni a scalino che tra l'altro potevi definire solo funzioni a scalino valori in R possiamo definire quest'anno potremmo definire funzioni a scalino definite su Rn scusate funzioni a scalino definite su R l'anno scorso quest'anno potremmo prendere funzioni a scalino definite su Rn su R2 su R3 su R4 anche qua anche lì si possono fare le funzioni a scalino qua invece usiamo le funzioni semplici le funzioni a scalino sono semplici ma le funzioni semplici non sono a scalino non semplici per esempio la funzione di Dirichlet quella che prima non era integrabile è una funzione semplice integrava a 0 perché quell'insieme là per l'attività numerabile è una successione una successione di punti deve avere misura nulla la sua funzione caratteristica deve essere integrata a 0 quindi quello che era una cosa non integrabile secondo Rn diventa una cosa integrabilissima secondo Lebeck integra a 0 ci ritorneremo quindi ripeto il discorso non è non è il fatto di approssimare da una parte sola ma è il fatto che le funzioni approssimanti sono semplici cioè c'è una categoria molto più ampia di funzioni molto non solo molto più ampia quando andremo a fare la misura di Lebeck su R la misura di Lebeck su R2 eccetera ma queste funzioni semplici le possiamo definire su qualunque spazio di misura cioè un contesto assolutamente gene generale è chiaro? ok per rendere la cosa ancora un po' più chiara prima finiamo le definizioni quindi quando riguarda le dimostrazioni di Beppo Levy eccetera se ne parlerà mercoledì però e quindi anche quegli esercizi avremo mercoledì vogliamo però finire la definizione se F diciamo da X in R è misurabile e non ha segno costante allora F sarà la sua parte positiva meno la sua parte negativa entrambe queste funzioni sono misurate se questo è misurabile queste sono misurate quindi si può fare l'integrale della parte positiva e questo appartiene a 0 infinito e si può fare l'integrale della parte negativa e questo appartiene a 0 infinito ricordatevi che le funzioni positive queste sono le stelle superiore quindi si può fare anche più infiniti quindi l'integrale di una funzione a segno costante possono essere anche infiniti allora qual è la situazione se integrati F più è uguale integrati F meno uguale più infinito F non è integrato perché non sapremmo dare nessun significato a più infinito chi sarà l'integrato di F sarà l'integrato di F più meno l'integrato di F meno per linearità e quindi se andiamo a dare quella definizione questa definizione e qua ci troviamo in difficoltà perché infinito meno infinito in determinata era e in determinata rimane se l'integrale di F più in dem mu fa più infinito l'integrale di F meno in dem mu è finito F si dice semi o viceversa semi integrale in questo caso quanto farà l'integrale di F se questo è infinito e questo no fa più infinito se invece questo è finito e questo no farà meno infinito perché se l'integrale di questo è più infinito e l'integrale di questo no diremo che l'integrale di F fa più infinito altrimenti diremo però diciamo queste funzioni capitano non dico che capitano proprio di raro qualche volta servono però non è che e analogamente nell'altro l'ultima la scrivo a parte perché è la più importante se l'integrale di F più è finito l'integrale di F meno è finito allora allora diciamo che F è assolutamente integrable scriviamo F appartiene a L1 mu di x integrable con l'esponente 1 secondo le belle rispetto alla misura mu sullo spazio x integrable secondo le belle con l'esponente 1 di mu su x naturalmente molto spesso si chiama L1 e basta perché mu e x si sanno da apriori dove stiamo e con che misura ragioniamo e si pone integrale di F in the mu uguale definizione integrale integrale di F più meno integrale di F vediamo se avete capito se invece di meno ci metto più qua che cosa mi viene? se invece di meno ci metto il più invece di venire integrale di F cosa mi viene? se io faccio invece di fare la parte positiva meno la parte negativa che tengo F faccio la parte positiva più la parte negativa che ottengo e quindi se qua ci metto più mi verrai il valore assoluto di F infatti assolutamente integrabile cosa significa? l'integrale del valore assoluto un altro modo di dirlo è che l'integrale del valore assoluto deve essere finita invece di dire che sono entrambi finiti questi basta dire che l'integrale del valore assoluto l'integrale del valore assoluto di F che è uguale all'integrale di F più più l'integrale di F meno deve essere finito la funzione quindi assolutamente integrabile significa l'integrale del valore assoluto misurabile e con l'integrale del valore assoluto è chiaro? allora andiamo un po' se non è un po' di tempo abbiamo allora forse facciamo quell'esercizio l'aglio almeno una parte allora prima di fare quell'esercizio però ricapitoliamo un attimo perché questo mi sembra un buon momento per fare un piccolo di epilogo allora noi che abbiamo fatto stamattina siamo partiti dicendo noi vogliamo una misura non ci accontentiamo della misura di Peano-Jordan perché? perché non ha l'attività numerale noi vogliamo una misura che cosa deve essere una misura? io ho uno spazio c'è una sigma algebra cioè una famiglia di sotto insieme dello spazio che è stabile rispetto alla complementazione dell'unione numerabile questo perché sono due richieste naturali che vengono per esempio dalla probabilità la misura dell'evento opposto deve essere uno o meno la misura di un evento misurabile di eventi che hanno una probabilità e poi che la misura di un'unione numerabile disgiunta alla probabilità di una successione di eventi che hanno probabilità deve essere la somma della serie di probabilità ok? per esempio ma possiamo anche prendere altri esempi che vengono da altre branche delle applicazioni della matematica però per fare una teoria della misura quindi mi serve una simulacifra e mi serve l'attività numerabile questo so so solo questo in partenza allora dopodiché prendo una misura se abbiamo queste proprietà ne ricavo alcune proprietà elementari la misura del vuoto deve fare 0 tranne in un caso banale in cui è tutto più infinito la misura è una funzione crescente di insieme passa al limite sulle successioni crescente di insieme passa al limite sulle successioni decrescente di insieme al fatto che un insieme della successione abbia misura finita la misura di un'unione disgiunta è la somma della serie di misure questo già lo sapevo per definizione la misura di un'unione finita si fa con il principio di inclusione esclusione e qualche altra proprietà elementare bene adesso voglio passare dalle misure integrabili no? con Riemann in Rn io definivo direttamente le funzioni integrabili come diciamo approssimabili con le funzioni a scalino sopra e sotto e poi definivo la misura di un insieme come integrata la sua funzione caratteristica questo punto di contatto me lo conservo me lo vado a riprendere per quale motivo? io non passo attraverso le funzioni caratteristiche degli intervalli anche perché in x in generale in Rn ci saranno gli intervalli anche in R2 gli intervalli sono i rettangoli gli intervalli di R2 gli intervalli di R3 sono i paralleli le epipedi con i lati paralleli gli assi coordinati però in generale uno spazio x se non è di questo tipo magari non ci saranno neanche gli intervalli non ci sono neanche chiaro? quindi che faccio però? però io ho la se voglio che appunto che l'integrata di una funzione caratteristica sia la misura di quell'insieme e quando meno l'insieme deve essere misurabile no? quindi io che cosa faccio? dico che una funzione è misurabile quando tutti i suoi insiemi di livello sono misurabili questa è una richiesta naturale che viene dal fatto che le funzioni caratteristiche come insieme di livello hanno l'insieme e le funzioni caratteristiche di e come insieme di livello a parte quelli banali hanno l'insieme e quindi almeno gli insiemi di livello di una funzione voglio che siano misurabili allora dico che queste funzioni sono misurabili allora in realtà adesso faremo un esercizio che mi fa vedere che per esempio si ha una successione di funzioni misurabili il limite che converge puntualmente il limite è misurabile se ho un estremo superiore di una successione di funzioni misurabili il limite è misurabile però questo è un bel esercizio perché è un bel esercizio perché mi permette di dire che quando io ho delle funzioni misurabili e passo al limite in genere io faccio successioni o successioni serie passo al limite non devo quando voi passavate al limite su una successione di funzioni integrabili secondo rima prima dovete vedere se la funzione è integrabile secondo rima e poi vedere se potete passare l'inizio che si è integrabili chiaro? qua non è così la misurabilità è garantita allora si tratta di vedere se queste funzioni misurabili sono integrabili oppure no in realtà si praticamente sempre almeno se sono positive l'integrale si definisce sempre come l'estremo superiore dell'integrale delle funzioni semplici minoranti ma allora la differenza con l'integrale di rimane è che qua stiamo facendo soltanto l'integrale dell'estremo superiore delle funzioni semplici maggioranti noi facciamo tutte e due no la differenza non è quella praticamente sempre quest'integrale delle funzioni semplici minoranti coincide con l'integrale delle funzioni semplici maggioranti praticamente non sempre perché alcune funzioni non ce l'hanno la funzione semplici maggioranti però se la funzione è limitata e diciamo per esempio se stiamo su r è limitata nulla fuori di un intervallo sicuramente coincide quindi non è quello il problema il problema è un altro il problema è che stiamo integrando con le funzioni diciamo stiamo facendo l'estremo superiore con le funzioni semplici che non sono quelle a scalino sono molte ma molte di più molte ma molte di più ok allora prima di fare quell'esercizio che faremo se avanzerà attento se non lo faremo direttamente la mercoledì invece mi è venuto in mente che volevo fare un'altra cosa più importante volevo fare l'esempio originale di Lebeg perché come gli è venuto in mente a Lebeg di creare questa teoria dell'integrazione diciamo in realtà noi noi abbiamo insistito molto sulla differenza tra funzioni a scalino e funzioni semplici quindi scaricando tutto la difficoltà del calcolo dell'integrale sul calcolo della misura che supponiamo già esistere però in realtà a Lebeg gli è venuto in mente l'alfale di integrale normale cioè in funzione di una variabile e gli è venuto in mente per un problema molto semplice che però lui mi sopeva esplicitamente in un altro modo allora ci sono le feste patronali per esempio diciamo il problema originale di Lebeg non era questo io sto facendo un problema che ha lo stesso tipo di struttura quando ci sono le feste patronali per esempio qua a Cassino c'è la festa di Sant'Antonio ci sta un comitato che va casa per casa e incassa dei soldi e rilascia una ricevuta per esempio questo va da un certo numero di utenti allora il primo quanto da? mettiamo 10 euro il secondo da 5 euro il terzo ne da 15 il quarto ne da 5 il quinto ne da 10 e così ok? allora si deve fare così per far capire che non siamo in scala questo qua non è 100 volte questo allora abbiamo detto il primo 5 il secondo ma il primo avevamo detto 10 il secondo 5 il terzo 15 il quarto 5 il quinto 10 ok? è così adesso vedete io ho preso un intervallino di lunghezza 1 per ogni contribuente ognuno che dà i soldi e qual è l'incasso totale che viene fatto per la festa di Sant'Antonio quel giorno perché quel giorno hanno visitato solo 100 case poi ci saranno altri giorni devo fare l'integrale di questa funzione a scalina cioè faccio 10 per 1 che fa 10 più 5 per 1 che fa 5 quindi devo fare la somma l'ultimo l'ultimo l'ha dato c e qua abbiamo il totale questo è l'integrale di Liman è l'integrale di Liman questo? va bene e beh vi dice questo integrale però non è il modo migliore per calcolarlo diciamo il modo migliore per calcolare questo integrale non è fare questa somma questa somma io la faccio sbaglio ricalcolo ti faccio che sbaglio non è il modo migliore il modo migliore qual è? allora il modo migliore abbiamo avuto io avevo 100 persone ne abbiamo avuto 55 che hanno dato 10 euro 20 che hanno dato 15 euro e 25 che hanno dato 5 euro siccome i valori 5, 10 e 15 più o meno erano fissi io vado a vedere soltanto quanti hanno dato cioè i valori del cotomino erano pochi questi sono i valori del cotomino della funzione 5, 10 e 15 in genere la gente da più o meno magari ci sarà qualcuno che darà cosa dire supponiamo ok in ogni caso ci sono dei valori che sono ricorrenti immaginate di avere questa sfizia di 100 numeri e di avere invece già fatto quel conto là che 55 persone hanno dato 10 euro 20 persone hanno dato 15 euro e 25 persone hanno dato 5 euro quanto fa il totale? qua siete in grado di farlo velocemente quanto basta 10? è facile fare 975 euro è facile perché qua c'erano i 550 55 per 10 qua c'erano i 300 e qua c'erano i 120 e perché l'ho fatto molto più rapidamente? perché io questi li ho contati ho messo ogni volta che prendevo come facevo? ogni volta che quello dava 5 la ricevuta da 5 la mettevo nel mucchietto della ricevuta da 5 separavo 5 10 e 15 poi contavo prendevo quella da 5 sono 25 quella da 10 sono 55 quella da 15 sono meno moltiplicato è fatto a che cosa corrisponde questo? a fare la funzione semplice chi è la allora io se prendo la funzione semplice cioè se prendo f a meno 1 di 15 questo chi è? allora questo è allora f a meno 1 di 15 è l'intervallo per esempio 2,3 se usavo qua gli intervalli se mi avessi a destra poi ci saranno altri intervalli 2,3 unito 7,8 unito eccetera eccetera però alla fine vi vado a contare questi intervalli sono tutti lunghi 1 ma in totale sono 20 è chiaro? quindi la controimmagine di 15 era un'unione di intervalli che è più complicata di un intervallo però vabbè fino a qua non cambiava la struttura degli insiemi ok? perché si cambiava non era più un intervallo semiaperto a destra era un'unione di intervallo semiaperto a destra però un'unione di intervallo semiaperto a destra sempre un numero fine di intervallo semiaperto a destra però immaginate adesso di variare la lunghezza degli intervalli e di fare un'unione di intervalli che sono lunghi diversi diciamo diversamente che hanno una lunghezza diversa e già diventa più complicata perché se io prendo una funzione adesso fatta così e vado a prendere la controimmagine in cui dell'insieme in cui i punti in cui il livello è compreso che ne so tra m su h e m più su h allora questo insieme qua sarà per esempio fatto così ma diciamo f di x compreso tra m su h ed m più 1 su h cioè qual'è l'idea? l'idea è quella di partizionare il potuto invece di spaccare il dominio io quando ho Riemann divido il dominio in tante parti uguali invece io voglio partizionare il codominio in tante parti uguali e per esempio faccio la controimmagine di questo insieme quando vado a fare la controimmagine di questo insieme che cosa ho? per esempio qua ho un intervallo semiaperto a destra qua ho un intervallo semiaperto a sinistra perché? perché qua la funzione sta salendo qua la funzione sta scendendo qua c'è un intervallo chiuso a sinistra e a destra perché qua c'è un uguale sia qua che qua qua c'è un intervallino semiaperto a sinistra e qua c'è un intervallino semiaperto a destra e qua c'è un intervallino semiaperto a sinistra quindi come vedete questo insieme qua è già più complicato perché è l'unione di due intervalli semiaperti a destra più due intervalli semiaperti a sinistra più un altro intervallino chiuso e le lunghezze di questi intervalli sono variabili perché dipende dalla funzione e questa è una funzione continua ok? immaginate adesso che quest'unione sia un'unione numerabile è chiaro che la cosa si complica enormemente quindi diciamo la controimmagine questo è f-1 dell'insieme m su h compreso m più 1 su h escluso quindi la controimmagine dell'intervallo semiaperto a destra sul codominio può essere un insieme molto complicato ma a noi non ci interessa cioè ci interessa ma fino a un certo punto se riesco a valutare la lunghezza di questo insieme io so la lunghezza di quell'insieme è 250 che vuol dire che 250 utenti hanno offerto tra m su h e m più 1 su h più o meno m su h quindi se voglio valutare il contributo di quegli utenti sarà 250 per m su h circa è chiaro? cioè non è chiarissimo qua è la più chiara però diciamo questa idea originale permette di scaricare il problema del calcolo dell'integrale sul problema del calcolo di certe misure nell'inizieme di partenza che vengono moltiplicati per il valore della funzione del codominio questo procedimento non vi preoccupate voi lo fate già perché quando fate il diciamo che ne so avete fatto la media di una variabile di Bernoulli no? allora vedete la probabilità che la variabile di Bernoulli faccia 7 è quella quindi fate 7 per la relativa probabilità e cosa state facendo? state facendo le bag che partite dal fatto che l'integrale si calcola più velocemente se io fisso più o meno il valore del codominio e mi vado a vedere la misura dell'insieme contro immagine quando il valore del codominio è il numero finito è facile per ogni valore del codominio vado a vedere la misura della controimmagine faccio il prodotto la misura della controimmagine per il valore della funzione faccio la somma e ottengo l'integrale è chiaro? quando la funzione non ha un numero finito di valori nel codominio ma un intervallo di valori o un'infinità numerabile di valori devo fare una serie oppure devo fare un varioscopio integrale ma come lo faccio un integrale? con quella definizione che è quella che ho dato all'inizio di quest'ultima ordina e quindi è quella che mi permette di andare a calcolare l'integrale secondo questa nuova definizione di ripresa l'importante è che se io mi attengo a questa definizione e faccio l'integrale per qualunque funziona misurabile positiva per esempio e poi a secondo dei casi eccetera io sto tranquillo che le proprietà di numerabile additività della misura si tradurranno in analoghe proprietà dell'integrale cioè io innanzitutto posso fare il limite della successione di funzioni misurabili e misurare e questo esercizio sarà la prima cosa che faremo mercoledì e poi in certi casi sarà più facile mostrare che il limite dell'integrale è uguale all'integrale del limite questo faremo per Beppo Levi poi lo faremo nel caso dell'emma di traduce avremo che l'integrale dell'imminfo è minore o uguale dell'imminfo degli integrali e poi invece per quando riguarda la convergenza dominata di Learbeck avremo che l'integrale si può passare al limite ogni volta che abbiamo la convergenza puntuale però dominata e questo sarà un ottimo risultato daremo anche siccome noi passaggi al limite sotto il segno integrale per la convergenza uniforme con Rima già l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto le successioni di funzioni faremo vedere un esempio in cui con le ipotesi di prima non puoi arrivare alla conclusione ma la conclusione è vera e ci puoi arrivare tramite le ipotesi del teorema della convergenza dominata di Learbeck quindi questo lo faremo mercoledì va bene ok è vero Grazie a tutti.